Montaloro, Gavoi 1, L'Aquila 3, naturalmente L'Aquila senza pece, Carbonelli squalificati, attacco con tre punte, D'Ercole, Sciba e Di Ruocco 4-3-3 anche per quanto riguarda la formazione sarda, queste sono le immagini più importanti della partita che commentiamo insieme, subito pericoloso, tra poco vedremo immagine la formazione di Loret con Sciba che fa sportellate, poi apre il gioco per Massetti che è stato di gran lunga il migliore in campo, lo strappo il suo destro, la palla che termina di un soffio, al lato la sinistra della porta difesa da Forzati, attenzione perché qui colpisce la traversa Falchi su calcio franco con il portiere De Chirico immobile, sfortunati i sardi del Taloro che sfiorano l'avvantaggio, questo colpo di testa di Secchi praticamente sotto misura, spedisce altissimo, costruzione al basso da parte dei sardi, bravissimo il numero 16 Di Norcia il suo destro la parata importante di Forzati che si distende e neutralizza, poi ancora sugli sviluppi rimesso laterali dunque esce fuori dalla distanza la formazione aquilana con il numero 20 Mantini, il suo tocco ravvicinato il riflesso dall'estremo difensore Sardo, poi ancora Massetti, guardate, vince un rimpallo e poi la sua percussione con il destro che termina di poco a lato, le immagini del primo tempo finiscono qui, poi la sponda, la torre di sciba all'inizio della ripresa, al primo minuto il destro di Massetti con la palla che si infila a mezza altezza, forse un po' sorpreso però il tiro è stato molto bello da parte del classe 96 ex San Nicolò, l'Aquila in vantaggio al primo minuto dopo due minuti, dunque al terzo il raddoppio della formazione di Lorelo, lo stiamo per vedere con il solito Massetti che ruba palla e poi il suo appoggio per il compagno di squadra D'Ercole, uno dei componenti del trinette d'attacco, classe 99, che fredda da distanza ravvicinata il portiere del Taloro, forzati, due a zero al terzo minuto della ripresa in favore della squadra di Lore, c'è la, naturalmente la reazione della squadra di casa, perde palla ingenuamente la formazione aquilana, il destro del capitano della squadra Sarda, il capitano con la palla che viene deviata a fondo campo, poi ancora un tentativo ad opera del numero 9 Falchi con la parata di De Chirico, e poi ancora vediamo la squadra del Taloro che accorcia le distanze e bravo in questo caso Mele ad anticipare De Chirico che si lamenta l'indirizzo del direttore di gara, e il gol facile facile, siglato da Secchi praticamente a porta vuota, uno a due al trentunesimo minuto, dopo due minuti però l'Aquila ristabilirà le distanze con il neo entrato Saurino che prende il posto di Di Ruocco, guardate questo è un gol molto bello perché viene sì servito involontariamente da un avversario il numero due Soro, però il destro è terrificante, sotto la traversa, o meglio colpisce la traversa e poi si insacca il pallone alle spalle di Forzati, un grandissimo gol della classe 88, attaccante d'esperienza che aveva preso il posto di Di Ruocco, uno a tre al trentatresimo minuto, un vantaggio importantissimo per la formazione di Lorè, qui uno svarione clamoroso di Scogna Miglio e la difensione centrale dell'Aquila che è stato tra i migliori, per poco non fa gol nella sua porta, dunque rischia una clamorosa autorete, poi ancora Massetti, bravissimo, il migliore in campo per distacco, il colpo di testa di Sciba, la parata di Forzati che restringe la minaccia e poi attenzione a Fois che elude l'intervento di Scogna Miglio, grande parata di De Chirico, De Chirico il portiere dell'Aquila che salva porta il risultato, però insomma l'Aquila è in vantaggio 3-1, finisce qui la partita.